a qualcosa dai raggiungici qui so che hai qualcosa da portare sul palco e adesso ci sono delle esigenze guarda io questo non lo sto usando e Oscar sei qua non sono bravissimo sicuramente sono emozionato è un piacere incontrare il mister Prandelli perché comunque non è tutto un grandissimo allenatore ma un grandissimo allenatore l'anno scorso forse due anni fa che è venuto a inaugurare il centro a Premona e sono emozionato ripeto, però è un po' di assoluto per un grande ruolo grazie Oscar grazie a tutti siete soddisfatti di arrivare il centro a Premona? arrivederci a tutti grazie e mentre noi piacchieriamo ogni tanto io muto gli occhi di là perché c'è Mariella Ceramolo grazie a tutti